Il voto europeo, il risultato europeo, molto complesso con l'ascesa della destra in molti paesi, con qualche risultato buono per la sinistra in alcuni paesi del Mediterraneo, hanno riaperto anche qui una discussione su quale sinistra costruire e soprattutto nel nostro paese come riandare a una riaggregazione delle forze della sinistra, per fare cosa ovviamente è la prima domanda, io credo che l'obiettivo deve essere quello della ricostruzione nel nostro paese che ha conosciuto molto meno di altri paesi del Mediterraneo, delle lotti importanti, un movimento di resistenza alle politiche liberiste, alle politiche dell'austerità, in fondo il voto europeo ha anche un voto esattamente contro queste politiche, il problema è dare una risposta a sinistra alternativa antiliberista, anticapitalista alla domanda che proviene da larghi settori della popolazione di un cambiamento radicale della sua situazione. In Italia questo problema si presenta in termini in primo luogo politici, è possibile costruire una sinistra alternativa, soltanto si comprende fino in fondo che deve essere alternativa al PD, il PD è oggi uno dei partiti che esprime gli interessi della borghesia, per costruire una risposta alle politiche dell'austerità e alle politiche dei padroni è indispensabile avere una totale indipendenza e alternatività rispetto al centro-destra, ma a questo centro-sinistra che con Renzi ha conquistato dei consensi e che continua però le vecchie politiche. Quindi in primo luogo una chiarezza politica da questo punto di vista, una chiarezza politica nel costruire una battaglia contro il fiscal compact, costruire una battaglia contro il pareggio di bilancio, costruire una battaglia contro tutte quelle regole, contro tutte quelle scelte politiche che hanno determinato una povertà crescente, la disoccupazione, la precarietà che al di là delle parole continuerà anche in questo semestre europeo, il semestre italiano. Peraltro Renzi, mentre parla di precarietà e di disoccupazione, contribuisce a crearlo ulteriormente con le sue misure sugli insegnanti, sulla scuola, sul pubblico impiego. Proprio per questo la costruzione di una sinistra alternativa va condotta in una dialettica che da una parte è politica, cioè una ricomposizione di forze politiche che vogliono perseguire con la massima democrazia, la massima volontà di convergere, ma anche la massima chiarezza negli obiettivi da conseguire con la dialettica sociale, cioè la ricostruzione dei movimenti sociali, la ricostruzione di un tessuto di lotte, di unità di lotte, la ricostruzione della volontà dei larghi settori di massa di essere protagonisti, perché solo in questo modo sarà possibile veramente costruire anche l'alternativa alle politiche liberiste dell'austerità. Quindi quello che noi proponiamo è sostanzialmente una combinazione tra un processo unitario di ricomposizione politica di una sinistra alternativa anticapitalista che sappia però guardare al sociale, cioè che sappia in realtà con la sua azione aiutare le lavoratrici, i lavoratori a riconquistare un punto di vista indipendente, alternativo, antagonista e a costruire anche le condizioni della lotta. Senza la lotta, senza la mobilitazione non sarà possibile cambiare i rapporti di forza e soprattutto non sarà possibile anche sconfiggere l'egemonia culturale e politica che le forze di governo e le forze dominanti oggi esercitano su larghi settori di massa, per cui questi settori di massa si lamentano, vivono in una condizione di grande difficoltà, ma trovano anche difficoltà a capire quali siano gli strumenti per poterli contrastare. Un'organizzazione politica anticapitalista serve a questo e serve ad aiutare questi lavoratori e questi lavoratrici a costruire le battaglie politiche, i movimenti di massa che potranno così porre fine alle politiche padronali.